Il tema è quello dell'Open and Embedded Insurance e quindi chiamo sul palco Luigi Alicante, membro del Board of Advisor dell'Osservatorio Open and Embedded Insurance, oltre che Insurance Senior Account di mia platform, per la moderazione della prossima tavola rotonda che come potete vedere dalle nostre slide il titolo InsureTech Insight. Benissimo Luigi, allora ti lascio la parola e naturalmente ti invito anche a presentare poi gli altri protagonisti del panel. Buongiorno a tutti, chiamo subito sul palco le persone con cui discuteremo di questi temi che in realtà stamattina sono già stati affrontati a più riprese dai diversi speaker che mi hanno preceduto. Chiamo in primis Roberto Anesin, Director Intermediaries and Digital Insurance Business di Aragha Italia, Alessio Beninati, Insurance Innovation Manager and Digital Product and Process Advisor di Reale Group, Emanuele Paioro, Direttore Tecnologie Italia di WeFox Italia e Fabio Pittana, Chief Operating Officer di Inet Insurance. Buongiorno a tutti. Prego ci possiamo accomodare. Prima di partire con le domande volevo un attimo dare quella che è la definizione di Embedded Insurance. All'interno dell'osservatorio sull'Open Embedded Insurance che abbiamo fondato con Yuri Poletto all'inizio di quest'anno ci siamo resi conto che era fondamentale partire da una definizione comune. Quindi con Embedded Insurance oggi si intende proprio quella vendita di prodotti assicurativi che vengono venduti con prodotti non assicurativi da distributori che non appartengono al mondo assicurativo. Facciamo l'esempio più tradizionale che poi è un esempio che è stato già citato ad esempio da Elvezia, dal dottor Carniol, quello del digital bank assurance. Ci piace dire il digital bank assurance non il bank assurance tradizionale proprio perché connotato all'interno di questo concetto di Embedded Insurance c'è una forte componente tecnologica che poi sarà anche uno dei temi chiave di cui discuteremo quest'oggi. Anche all'interno dell'osservatorio stiamo un po' osservando a livello internazionale quali sono i principali trend. In tanti dicono che sarà il trend più disruptive del mondo assicurativo degli ultimi 30 anni, addirittura paragonato a quello degli aggregatori di polizze online. Ed effettivamente da quello che stiamo vedendo anche a livello di investimenti in compagnie insurtech che fondamentalmente fanno da abilitatori di questi processi, stanno succedendo un sacco di cose e sono un sacco di cose estremamente interessanti da osservare. Proveremo ad affrontare anche il tema guardando un po' alla regolamentazione. Il mercato assicurativo è un mercato assolutamente dove la regolamentazione ha un impatto estremamente forte e dove la regolamentazione però in alcuni casi può costituire anche un forte volano alla crescita del mercato. Sono appena rientrato dall'Open Banking World Congress di Marbella dove si è parlato tanto di questi temi e della necessità anche di standardizzare e di avere delle API e cavalcare un po' quello che è stato l'esempio della PSD2 nel mondo dell'Open Banking. Quindi anche questo sarà un tema che poi vorrò affrontare con voi. Direi a questo punto di cominciare. Faremo dei giri di tavola e partiamo dal tema appunto della tecnologia. Chiederò di rispondere ad Alessio Beninati, Roberto Anesina ed Emanuele Paioro. La domanda è la stessa ed è la seguente. Che rilevanza assume oggi l'aspetto tecnologico dal vostro punto di vista in una strategia di embedded insurance? E quanto è importante dotarsi anche di una piattaforma tecnologica che consente e faciliti le integrazioni con i nuovi partner? Questo è un tema estremamente sentito. Alessio chiedo prima a te di rispondere. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito e l'opportunità di parlare qui con voi. Allora vi racconto quella che è stata un po' la nostra esperienza finora. Io lavoro in Reale Mutua, sono parte dell'innovation del gruppo reale, un gruppo molto forte fortunatamente, storicamente molto radicato sul territorio italiano, tradizionale, quindi anche nell'approccio e anche posizionato sempre più a livello internazionale. Negli ultimi tempi ci siamo accorti che era necessario provare ad avere un cambio di passo, a capire le potenziali evoluzioni, i potenziali inizi dei clienti e abbiamo iniziato ad affacciarci al mondo del digitale in maniera un pochino differente rispetto a quanto facevamo prima. E qui inizio a rispondere alla tua domanda. La tecnologia? Beh, la tecnologia è fondamentale. Direi che è l'abilitatore per poter fare tantissime cose e per poter poi andare a fare tutti quei ragionamenti dei quali poi probabilmente parleremo dopo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso internamente, quindi con tutta la nostra area IT e anche con un supporto devo dire dall'esterno ma in maniera piuttosto minimale, di dotarci di una nostra piattaforma. Una piattaforma piuttosto agile, completamente slegata da quelli che sono i sistemi legacy, perché non teniamo presente che, non dimentichiamoci che è molto molto importante cercare agilità nella costruzione di una piattaforma e far sì che non diventi un pezzo, magari da inserire all'interno di un contesto che così, come è nato tradizionale, ha delle logiche, dei vantaggi, degli svantaggi tra cui magari l'agilità e la lentezza, la mancanza di agilità e la lentezza che magari si possono costruire su una piattaforma. Abbiamo quindi iniziato con una sperimentazione, innanzitutto una progettualità completamente fuori da quelli che erano gli schemi utilizzati precedentemente, quindi in maniera agile e siamo partiti con la costruzione di questa piattaforma inizialmente utilizzabile principalmente sul mercato spagnolo. Ed è lì abbiamo lanciato all'incirco un anno fa le nostre prime proposizioni commerciali con l'utilizzo di questa piattaforma tramite una web app che si chiama ingot.es. Questa piattaforma quindi ci ha dato la possibilità di cambiare innanzitutto il tipo di approccio e la nostra proposizione anche a livello commerciale perché ci siamo focalizzati sul target market particolare e nella costruzione di prodotti rapidi, veloci, non per forza con il desiderio che ci fossero revenues particolarmente interessanti ma potenzialmente per creare dei leads ed avvicinarci ad una nicchia di mercato che inizialmente per noi era leggermente lontana. I vantaggi di questa piattaforma sono tanti, soprattutto l'Atembedded Insurance. Fondamentalmente utilizza l'API e quindi permette effettivamente un'integrazione plug and play con qualsiasi terzo e per noi è molto molto importante. Quindi abbiamo iniziato soprattutto in questa fase nel mercato spagnolo, nel mercato italiano ci stiamo lavorando a delle complessità che sono leggermente diverse, ad effettuare accordi con i terzi. In particolare nell'ambito bike il nostro primo MVP, il nostro primo prodotto, ci siamo mossi ovviamente con una logica MVP quindi cercando di fare il minimo indispensabile per testare la soluzione ma con un prodotto e su qualcosa che effettivamente fosse funzionante abbiamo poi iniziato a creare degli accordi in cui ci siamo proposti come embedded insurance e quindi fondamentalmente lavorando con terzi player e cercando di iniziare a creare un piccolo ecosistema per esempio in ambito bike, per esempio in ambito winter sport o anche sport estivi. Quindi tornando un po' alla tua domanda per noi è stata sicuramente una sfida nuova affrontata internamente con grande forza che ha delle insidie soprattutto per un modello di business che è sempre stato tradizionale come il nostro ma assolutamente sì la tecnologia diventa un abilitatore fondamentale per poi pensare anche a quella che è l'embedded insurance. Hai già toccato un po' di punti e hai fatto anche qualche piccolo spoiler su quelle che saranno le prossime domande però indubbiamente hai detto delle parole chiavi API, API come abilitatore del mondo dell'embedded insurance, come facilitatore, hai trattato il tema degli sport invernali e la regolamentazione in questo è stata un po' ha fatto letteratura diciamo alla fine dello scorso anno con l'obbligo dell'acquisto e assicurazione con lo ski pass e hai introdotto tanti temi interessanti. Roberto tu invece come 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 la pensi come come avete affrontato questa sfida all'interno di Arag? Allora buongiorno anche da parte mia innanzitutto vi porto magari un osservatorio un po' particolare perché Arag è una compagnia specializzata nella tutela legale quindi una compagnia verticale e noi da sempre abbiamo un approccio aperto al mercato e da anni stiamo cercando di passare consentitemi un po' dal ruolo di assicuratori tradizionali che pagano i sinistri quindi nel nostro caso che forniscono avvocati tendenzialmente per risolvere le proprie le proprie controversie a ruolo di invece fornitore di servizi a 360 gradi per la gestione appunto delle problematiche che uno può avere nella vita privata nella vita professionale o nell'ambito di un'attività di impresa. Abbiamo creato anche noi da qualche anno se ne è parlato molto questa mattina di ecosistema noi abbiamo creato il nostro ecosistema mondo Arag dove affianchiamo ai tradizionali prodotti assicurativi tutta una serie di servizi costruiti in casa in alcune situazioni anzi per la maggior parte ma anche affidandoci a terzi e per diciamo per far funzionare questo ecosistema già qui in primo elemento la tecnologia è ancora una volta fattore abilitante fondamentale devo dire che anche questo è un tema già toccato la pandemia ha avuto un ruolo importante non tanto nel farci prendere una nuova direzione ma in quanto come acceleratore importante di processi già avviati ma che negli ultimi due anni hanno avuto veramente un'accelerazione molto molto forte. Altro aspetto importante essendo una compagnia specializzata noi ci poniamo sul mercato in maniera totalmente aperta noi andiamo a conquistarci la nostra fetta di mercato quotidianamente e quindi lavoriamo con intermediari tradizionali tendenzialmente indipendenti lavoriamo con compagnie partner lavoriamo con affinity e quindi tutto il tema di avere un'architettura aperta e integrabile con piattaforme di terzi è centrale nel nostro modello distributivo e quindi API per forza la parola voglio dire sarà ricorrente penso per molto molto tempo e vi porto magari un paio di esempi veloci noi siamo da tempo totalmente integrati con degli affinity nel settore automotive quindi alla vendita di un veicolo e tendenzialmente con il finanziamento c'è dentro la copertura assicurativa di Arag e con la creazione dell'ecosistema non solo la parte prettamente assicurativa ma anche tutta una serie di servizi accessori per far percepire il più possibile il valore di quello che si è che si è acquistato tendenzialmente altre integrazioni sono in ambito diciamo più prettamente assicurativo con grandi broker quindi lavoriamo tramite le loro piattaforme non solo esclusivamente tramite la nostra piattaforma e nel settore delle utilities piuttosto che delle carte di credito. Hai detto anche tu un'altra parola che quella ecosistema in realtà è una parola che si è già sentita diverse volte stamattina ed è probabilmente uno dei concetti chiave no che su cui si fonderà tutto il paradigma dell'embedded insurance nel prossimo futuro. Volevo adesso chiedere invece volevo fare la stessa domanda Emanuele Paioro di WeFox. Voi avete una vista un po' diversa. Tu hai un profilo un profilo IT e WeFox sta davvero conquistando a livello InsurTech sta conquistando tanti spazi in Europa e credo che il concetto della tecnologia sia per voi fondante nello sviluppo. Ci racconti un po' la vostra esperienza? Sì la nostra esperienza come detto è basata puramente sul concetto di piattaforma di tecnologia e siamo una InsurTech prima ancora di essere una compagnia. Non siamo né solo l'uno né solo l'altro però la spinta tecnologica è inevitabile che è forte per noi. Quello che noi crediamo all'interno dell'ecosistema perché è una parola che secondo me è giusto citarlo del panorama assicurativo anche più esteso al mercato broker è quello di abilitare la tecnologia in una maniera semplice verso il mercato. Come si fa questa cosa? Si fa facendo una tecnologia che è semplice nel suo utilizzo quindi una tecnologia che attraverso l'utilizzo delle API attraverso l'utilizzo dei processi ci permette di avere un time to market semplice. Sembrano, io arrivo dal panorama giustamente tecnologico e come tutti che arrivano dal panorama tecnologico sa le sfide di mettere a terra le sfide tecnologiche di mettere a terra una piattaforma che possa scalare la piattaforma software. Negli ultimi anni del panorama tecnologico la tecnologia in sé pura quindi intesa proprio come tecnicality si è evoluta in parecchio nel senso che il costo di adozione anche della tecnologia si è abbassato lo storage, i server cioè robe che fino a vent'anni fa avevano un impatto tecnologico anche costoso ora non lo sono più. Questo che cosa porta? Porta a concentrarsi puramente sulla scelta tecnologica cioè delle scelte tecnologiche che si fanno e quindi sulle scelte che devono rendere la piattaforma semplice e di facile utilizzo. Come WeFox Italy ma penso che ancora prima come gruppo che WeFox Italy è quindi come gruppo Mansutti il lavoro più importante è stato quello sempre di creare piattaforme che fossero semplici. Quindi nella parte di tecnologia in sé pura io credo che la scelta tecnologica avvenga in maniera quasi naturale nel mondo adesso quindi parlando di API è scontato che si parli di API. È secondo noi l'utilizzo della tecnologia in sé quindi il fatto di come si utilizzano questo API che è importante e credo che nel panorama assicurativo italiano quello che si deve porre la maggiore attenzione è chi consuma le API deve avere a cuore il processo che queste API realizzano, che questa tecnologia realizza e quindi penso che la cosa più importante non sia concentrarsi sulla tecnologia ma che questa tecnologia sia abilitante per i processi ed è per questo motivo che la piattaforma tecnologica che noi proponiamo e che portiamo avanti sia a livello europeo che ovviamente a livello italiano si concentra sui processi e si concentra sul portare a terra i prodotti in una maniera più semplice. Negli interventi di questa mattina ho sentito spesso la parola di customer experience piuttosto che digital version piuttosto che parlavamo di come delle esperienze di omnicanalità siano importanti per questo panorama. Io arrivo dal mondo dell'e-commerce ancora prima e questo mondo ha già vissuto questo cambiamento. In questo mercato e quindi quello assicurativo quella cosa che è importante quindi è non fare secondo me gli stessi errori degli altri mercati e di rubare il più possibile degli altri mercati. Le piattaforme tecnologiche secondo me devono essere viste ed è questo secondo me il mio intervento poi secondo me possiamo magari andare se lo dicevi da dopo diversamente. È importante porre l'attenzione che la piattaforma tecnologica non deve essere vista sempre come pura tecnologia ma come un abilitatore del processo. Proprio perché quello che noi facciamo cioè rendere semplice la tecnologia è affare nostro come compagnia, come insurtech. Questa secondo me è la sfida della tecnologia, questa è la sfida di una società come Wefox all'interno del mercato e del panorama. Le nostre ambizioni ovviamente sono europee quindi una delle sfide nostre ad esempio è rendere la possibilità di avere un prodotto o una tecnologia puramente nazionale scalabile all'interno del panorama europeo e viceversa. Questa è e deve essere una scelta ancora prima tecnologica ma ancora di più dell'azienda in sé. Quindi bisogna imbarcarsi in questo cambiamento. La piattaforma tecnologica quindi in sintesi è secondo me un fattore abilitante ma non deve essere vista come l'ostacolo. Le frizioni del mondo legacy, come anche i miei colleghi prima dicevano, secondo me non devono essere viste in questo momento come un rischio, ok? Ma devono essere viste come un'opportunità per andare oltre, ok? La tecnologia oggi è in grado di andare oltre a questi limiti. Assolutamente. Nella mia esperienza in mia platform continuiamo sempre a spiegare, a raccontare come le API siano poi non... la tecnologia non sia fine a se stessa ma sia proprio un facilitatore di processo. Quindi hai citato il tema anche dell'integrazione delle API per le integrazioni. Oggi quando si lancia un prodotto di embedded insurance, lo abbiamo rilevato anche con l'osservatorio a livello internazionale, ci vogliono pochi mesi per fare una strategia di business, quindi trovare un prodotto che possa essere lanciato sul mercato ma ci vuole fino a un anno per fare le integrazioni tra l'assicurazione e il nuovo distributore. Capite bene che in un mercato che va così veloce tutto ciò non è sostenibile. E l'API in quanto abilitatore di nuovi processi e la tecnologia in quanto tale deve proprio andare a consentire appunto di agire proprio anche sul time to market e sui nuovi prodotti. Cambiamo un attimo argomento e ripartiamo poi da Fabio con un tema un po' diverso. Se ne è parlato tantissimo anche stamattina, il ruolo degli agenti, il ruolo dei distributori, delle nuove modalità di distribuzione dei prodotti che poi è la chiave ed è il concetto fondante del tema dell'embedded insurance. Quello che vorrei capire, Fabio partiamo un po' da te dall'esperienza di net insurance, è proprio qual è il ruolo degli agenti, dei distributori all'interno di una strategia di embedded insurance. C'è la percezione del rischio che possono essere disintermediati? Oppure è una paura poco fondata soprattutto perché stiamo guardando un mercato che ancora forse non esiste e che è anche magari un target diverso? Come lo vedi tu questo tema? Come lo affrontate? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito a essere qui oggi. Tu dicevi è un tema diverso, è un tema diverso ma è strettamente correlato in realtà, perché quello che abbiamo ascoltato stamattina è come le tecnologie, come questa spinta tecnologica enorme che stiamo vivendo in tutti i settori portano a stravolgere i processi e a rivederli in meglio. È chiaro che in un cambiamento così forte in questo ecosistema anche il ruolo dell'agente, del broker, dell'MGA, tanto per usare un termine che oggi non è ancora uscito, cambia. Cambia e deve sapersi adattare a questo facilitatore enorme che è entrato nel nostro mondo che è la tecnologia. Rispondo subito alla tua domanda, cambia per me non vuol dire che rischia di essere disintermediato. Cambia vuol dire che probabilmente, l'abbiamo anche sentito questa mattina, deve essere un po' più rotondo, non è più il broker e l'agente in senso tradizionale, ma deve poter entrare anche lui a far parte dell'ecosistema e quindi deve dotarsi anche lui di una tecnologia che gli permetta di partecipare attivamente all'ecosistema e che gli permetta di erogare dei servizi e dei processi, oggi come oggi, ormai in forma digitale. Fatto questo, e qui entriamo in un altro termine che fortunatamente stamattina abbiamo ancora sentito, che è il figital. Il digital da solo stiamo capendo che fa fatica a sopravvivere, il fisico da solo stiamo capendo che forse ha qualche limite, il figital, che è la tecnologia a supporto dei canali e dell'esistente, è quello che stiamo cercando. Il net, l'esperienza net, l'esperienza net sull'embedded insurance, devo dire, è abbastanza ampia, noi stiamo cercando di essere attivi su questo tema, anche noi ci siamo dotati di piattaforme, di tecnologie adeguate, e però, come dire, noi la viviamo veramente come un'opportunità, nel senso che l'embedded insurance ci ha aperto a nuovi mondi, a nuovi processi, a nuovi canali, a nuove opportunità di sviluppare nuovi prodotti e ad essere maggiormente vicini al cliente. Quindi il tema è ritagliare con le nuove tecnologie i giusti perimetri, i giusti ruoli per la compagnia, per il broker, per l'MGA, per il distributore, affinché il beneficiario ultimo sia il cliente che possa avere un servizio e una prossimità alla sua esigenza molto, molto migliore, di quanto è stato fino ad oggi. Esatto, il concetto chiave è quello del valore per il cliente. Bisognerebbe sempre partire da lì, ma questo non è il mondo assicurativo, ma in generale la tecnologia e i processi devono sempre essere concepiti e creati per la creazione di valore per il consumatore, il concetto di omnicanalità e tutto quello di cui anche poi stamattina si è parlato dovrebbero partire sempre da questo assunto. Roberto, voi invece, come vostro punto di vista, riguardo anche qualche caso concreto? Ma allora, il nostro punto di vista è molto simile a quello che diceva Fabio, quindi noi abbiamo sperimentato il digitale puro e vi assicuro che se è difficile per l'RC Auto aprire e crescere quota di mercato, potete immaginare che cosa è per la tutela legale, questa sconosciuta ancora nel mercato italiano nella maggior parte dei clienti. Però è stata una palestra molto utile e molto importante che ci ha consentito poi proprio di ripensare un modello dove mettere al centro la rete distributiva, gli intermediari, quindi il digitale a favore degli intermediari sostanzialmente. Quindi abbiamo visto che dal nostro punto di vista ci sono delle grandi opportunità e degli spazi di crescita importanti, le reti in questo momento hanno un gap sicuramente importante da un punto di vista sia culturale che da un punto di vista tecnologico, però ci siamo detti perché non proviamo a farlo insieme. E quindi abbiamo realizzato, vi cito un esempio pratico visto che me lo chiedevi, abbiamo realizzato delle campagne di marketing digitale a favore della rete distributiva. Quindi noi andiamo da un nostro agente, gli diciamo vogliamo fare una campagna con te, andiamo a sensibilizzare tutti i tuoi clienti su tematiche relative appunto alla tutela legale, in molti casi partendo magari da servizi e non da prodotti. Vi cito la legge sull'omicidio stradale del 2016, nessuno sa che, scusate magari l'intermezzo un po' specialistico, se si provoca un incidente stradale con una lesione superiore a 40 giorni parte d'ufficio a un procedimento penale. Quindi sensibilizzare la clientela su tematiche di questo tipo in maniera totalmente digitale, mettendo a disposizione un tool sostanzialmente chiave in mano per gestire la campagna a favore dei nostri intermediari, raggiungendo numero di clienti importante con alcune particolarità. Il sender non è Aragm ma è l'intermediario stesso, quindi è l'agente, in alcuni casi siamo arrivati addirittura a personalizzare le campagne, andando a mettere il singolo account piuttosto che il subagente, il collaboratore. Quindi è chi ha la relazione con il cliente che scrive al proprio cliente, sensibilizzando su questi temi. Abbiamo visto che la cosa è piaciuta molto, la stiamo portando avanti, ormai abbiamo più di un centinaio di intermediari che lavorano in questo modo. Tassi di redemption elevatissimi, oltre il 6%, cosa che ha stupito anche noi, perché in campagne di marketing digitale in ambito assicurativo e finanziario i tassi sono molto molto più bassi. Però diciamo che le chiavi di successo sono tendenzialmente due. Uno appunto che è l'agente o la persona che ha la relazione che scrive, l'altra cosa che abbiamo osservato è che nel 99% dei casi l'acquisto avviene in maniera fisica. Quindi ancora, nonostante il processo sia completamente digitale e consenta l'acquisto online, il cliente va dalla persona con cui ha la relazione a finalizzare l'acquisto. Un bellissimo esempio di figital, questa parola che sono sicuro sentiremo sempre di più nel prossimo futuro. Non è bellissima da un punto di vista. Non è un po' cacofonica, però effettivamente rende un po' l'idea di quello che sta succedendo e lo hai raccontato in maniera estremamente interessante. In questo chiederei anche a WeFox, Manzutti, WeFox un po' con la doppia pelle, voi siete stati un esempio molto concreto, è un po' la strategia fondante della compagnia a livello europeo. Ecco, voi come lo state affrontando e come la funzione IT può davvero creare le condizioni affinché tutto questo accada? Sì, la filiera secondo me è il punto dal quale guardare tutta l'esperienza. Cioè gli attori coinvolti all'interno di un processo di conversione dell'utente, cioè che ci porta alla fine all'acquisto di una polizza, sono diversi. Soprattutto nel mondo dei broker o comunque nel mondo di qualsiasi tipo di affinity. All'interno della nostra esperienza noi abbiamo imparato negli anni a capire che quello che dobbiamo innanzitutto raggiungere è l'integrazione con il partner, fortissima, che sia la gente che sia internazionale e così via. Quindi anche noi abbiamo sempre costruito delle campagne che avessero come linea comunicativa, quindi come oggetto delle mail, la parte che l'utente finale conosce per non cogliere un senso di smarrimento dell'utente. Cioè dobbiamo usare qualcuno che l'utente finale già conosce come brand, come marchio. E questo secondo me è l'esempio, cito anch'io degli esempi nel quale noi abbiamo andato sia nel mondo dei dealer, quindi nel mondo dell'automotive. Noi abbiamo una integrazione forte nelle nostre piattaforme, con le piattaforme del partner, sia dal punto di vista, partendo dalla preventivazione stessa. Quindi le nostre piattaforme all'interno del processo di conversione dell'utente permettono di, già in fase di preventivazione, di profilare l'utente e di capire quale potrebbe essere il target. Questa cosa qui viene realizzata in concerto con le piattaforme del partner, quindi indipendentemente da qual è il nostro cliente, che ha delle capacità tecniche diverse, ci integriamo diversamente nelle piattaforme del partner. Il processo rimane sempre lo stesso, cioè quello di raggiungere la capacità, di dare la capacità al nostro partner, di integrarci anche nei loro sistemi, nei loro processi di vendita. Anche a me non piace la parola fidgete, perché secondo me, a parte la cacofonia, non rende mai bene il concetto vero, che è quello di avere comunque una persona che sia un venditore e ancor più un utente dall'altra parte, che comunque è una persona vera, in carne ed ossa, e che quindi ha bisogno sia per vendere che per comprare di un sentimento, di un benessere, di sentirsi accolto, di essere tutelato in una parola. Tutelato nel prezzo, tutelato nei documenti, tutelato nella comunicazione, tutelato nell'esperienza utente centrica. Quindi nelle nostre integrazioni, nelle nostre piattaforme, quello che noi cerchiamo di fare è sempre di raggiungere questa sensibilità verso gli utenti. Il pricing e la gestione del pricing dei nostri partner, quindi l'attenzione che abbiamo nelle scontistiche, piuttosto che in tutti quegli strumenti che servono per portare a casa l'utente, per portare a casa la polizza, sono centrali. Quindi sappiamo che rendere un processo di pricing e di preventivazione è complicato, ma come piattaforma ci siamo impegnati, e non poco, a rendere questo processo facile e attuabile, in maniera tale che il nostro partner abbia veramente degli strumenti di venda potenti, da quando ha davanti l'utente, quindi quando è nel momento fisita. L'altra esperienza, secondo me cito, è molto più semplice ed è quella relativa alla normativa sui campi da sci, e quindi abbiamo, attraverso un'altra nostra piattaforma, realizzato un conversion rate, anche per noi molto elevato, nella vendita davanti alle casse degli ski pass, che è quasi una vendita di impulso, come quella che andate alla cassa e comprate le cicche quando siete in cassa al supermercato. Ecco, abbiamo cercato di realizzare un'esperienza del genere, quindi abbattendo ad esempio i forni di registrazione, abbattendo tutti gli impedimenti che all'utente permettevano, erano delle barriere all'acquisto. La fatica è stata tanta, anche perché la normativa è entrata in vigore ultimamente, però mi sento di dire che è un vero esempio di esperienza omnicanale, e non multicanale, come giustamente dicevamo prima, con un fattore di conversion molto elevato, che in quel caso lì era molto importante la parte di pricing, perché essendo molto importante la filiera doveva costare poco. E' un altro aspetto della tecnologia al quale sono molto sensibile, cioè l'impatto della tecnologia all'interno dei processi di vento, dei processi, deve essere cost effective, perché non possiamo permettere che una tecnologia vada oltre i nostri margini. Quindi prima citavamo l'MVP, che è un concetto nel mondo digital del minimal viable product, cioè di fare una cosa che ci permette, il minimo che serve per venderci. Ecco, l'impatto delle nostre integrazioni con i nostri partner ha anche, soprattutto, questo come punto di svolto, come punto di discussione. Non l'unico punto, ma è importante anche essere su questo cost effective. Mi hai fatto un bell'assist per quello che è poi il prossimo giro di domande, cioè hai detto un concetto chiave, il valore generato dalla vendita di un prodotto embedded deve necessariamente essere maggiore rispetto al costo di realizzare l'integrazione, di realizzare il prodotto e realizzare e creare una partnership. Quindi mi chiedo, e vi chiedo, in particolare Alessio e Fabio, ma come si sceglie un distributore e che caratteristiche deve avere un distributore per poter essere il partner giusto per un prodotto di embedded insurance? Dal vostro punto di vista, Alessio, voi quali sono i criteri che utilizzate per la scelta di distribuzione di un nuovo prodotto e anche se ci sono altri driver, se hai suggerimenti a riguardo? Sì, sicuramente cerchiamo di cambiare, cerchiamo di guardare un potenziale collaboratore, cliente, soggetto col quale effettuare un accordo, in base anche alla proposition che vogliamo ottenere noi. Allora, se come gruppo reale vogliamo cercare di spenderci e di spenderci con il nostro brand, naturalmente, probabilmente, cercheremo dei soggetti che potrebbero essere graditi e che quindi potrebbero essere interessanti non solo in ottica di revenues e quindi di potenziali numeriche, ma anche che rendano l'abbinamento potenzialmente interessante. Diverso invece è pensare, potenzialmente ho bisogno di fare massa critica e allora a quel punto posso cercare un player, magari un player direttamente online, che faccia delle numeriche pazzesche e che mi permetta quindi di introitare il più possibile potenziali clienti. Sempre parlando di quella che è stata la nostra esperienza, quindi relativa all'allocazione di micropolitze, questo parlo sempre per il mercato spagnolo, poi vi darò anche qualche insight sul mercato italiano, è fondamentale per noi cercare di attrarre e di avere leads, da poter poi inoltrare agli agenti, sempre un po' per il discorso di dire cerchiamo di far sì che il digitale di fatto sia una leva e sia un qualche cosa che utilizza gli agenti, che favorisce gli agenti e che li mette in condizioni di poter ampliare quelle che sono le loro possibilità di offerta o potenzialmente di fare upselling o cross-selling su potenziali clienti che entrano tramite magari meccanismi leggermente diversi. In un'ottica white label è completamente diverso quindi. Detto è che va anche tenuto presente che non solo i volumi possono essere un driver. Per esempio in ambito bike, in cui magari ci si riferisce o ci si approccia a una tipologia di cliente premium, non è detto che dei volumi particolarmente alti dal punto di vista dell'anti-selezione del rischio possano essere così favorevoli, perché se volessimo pensare a una sostenibilità anche potenzialmente dal rapporto tecnico del prodotto che vogliamo vendere, potenzialmente magari focalizzarsi su determinati approcci anche in ottica ecosistemica di embedded insurance con player magari più piccoli, ma che ti garantiscono anche una clientela di un certo tipo, fa sì che magari dal punto di vista del portafoglio possa essere magari più conveniente. Tendenzialmente ti direi questo, credo moltissimo nell'embedded per una questione di leve emozionale. Uno dei problemi più grandi delle compagnie assicurative è che manca un pochino quella che è la leve emozionale che spinge a comprare. Ci sono altre industrie che riescono ad essere anche solo per ciò che vendono molto molto più sexy rispetto a noi. Quindi pensare di esserci nel momento giusto quando tu stai facendo una vendita di un bene o di un servizio e il tuo cliente effettivamente, il cliente del terzo che poi diventa anche tuo, capisce che potrebbe avere una necessità perché magari ha affrontato una spesa di un certo tipo e quindi potrebbe avere bisogno di una copertura, ebbè quello sicuramente è il momento giusto. Bisogna poi capire, e lì ci sono, scusate, tantissime sfide, se embed ed insurance vogliamo declinarla dal punto di vista full digital potenzialmente con applicazioni terze piuttosto che all'interno di siti embeddando l'offerta all'interno di una landing page oppure magari attraverso proprio negozi fisici. Anche lì la sfida è particolarmente interessante per gli agenti perché c'è anche un aspetto legato alle opportunità di segnalazione di quello che è un prodotto e quindi la vendita piuttosto che mettere nelle mani la possibilità ad un terzo magari a un operatore di un grande negozio di retail di effettivamente poter emettere la polizza. Quindi ci sono tante tante sfide però sicuramente il contesto è molto molto interessante e credo che sarà una parte fondamentale dello sviluppo del business futuro dell'insulence. Sì, quello che vediamo è che ci sono già dei casi d'uso concreti in tanti paesi soprattutto in US sono già partiti con delle sperimentazioni che poi non sono neanche più solo sperimentazioni ma davvero delle fonti di revenue importanti anche per le compagnie e sono temi che sono già stati affrontati quindi in questo momento è un mercato che va creato dove la competizione secondo me non deve spaventare bisogna trovare le logiche e bisogna farlo bene. Fabio, voi avete fatto tante tanti accordi negli ultimi anni e siete forse uno dei casi più virtuosi in Italia a riguardo. Ci racconti un po' il vostro processo anche di selezione e scelta? Volentieri. Allora sì, l'hai detto tu come NET noi non abbiamo una rete agenziale noi siamo B2B per DNA proprio e quindi abbiamo fatto tutta una serie di accordi con MGA con broker piccoli con broker medi con broker grandi con broker digitali su vari prodotti dal prodotto PET al prodotto SCI al prodotto CASA insomma una certa varietà di situazioni. Allora devo dire che ci sono dei nelle caratteristiche con cui cerchiamo e scegliamo il partner ci sono dei must have e dei nice to have. Il must have principale per cui le cose poi possono funzionare è la condivisione degli obiettivi che come dicevamo prima possono essere numerici possono essere emozionali ci può cercare tanta cosa nella vendita digitale però vanno condivisi con la seconda B B2B. L'altra cosa che cerchiamo come must have è la flessibilità perché l'abbiamo detto tutti lo sottolineiamo in particolare Emanuele abbiamo bisogno di facilità di integrazione perché i tempi e i costi di queste progettualità devono essere ridotti e dobbiamo poterli recuperare in tempi brevi. Quindi questi sono i due must have comunione di intenti e di obiettivi e flessibilità tecnologica. Dopodiché ci sono quelli che noi chiamiamo i nice to have è chiaro che se c'è una customer base grande di un'intervista dimensioni se c'è la capacità di analizzare i dati del cliente per capirne le esigenze se c'è un approccio condiviso al contatto col cliente la famosa customer experience e la customer journey è chiaro che le cose funzionano meglio dopodiché rientriamo però in quello che diceva Alessio bisogna andare a vedere se lavoriamo come white label è chiaro che la customer journey è in carico al distributore se lavoriamo co-branded va condivisa se lavoriamo a brand net è chiaro che dobbiamo definirla noi quindi ci sono questi aspetti. Vorrei aggiungere un'ultima cosa che secondo me non abbiamo trattato ma che per noi è molto importante ed è come dicevi tu questo è un mercato da creare dove le opportunità vanno colte e noi come net riteniamo che ci debba essere anche una base di divertimento sulla parte insurtech e quindi a volte andiamo ad ascoltare partner o potenziali partner che ci portano in aree che sono ancora pioneristiche penso alle criptovalute penso agli NFT penso al metaverso tutti argomenti ancora molto da sviscerare però ecco noi riteniamo che andare ad ascoltare e confrontarci con chi ne sa più di noi perché parliamoci chiaro noi siamo una piccola compagnia di assicurazione di questi temi può solo giovare alla nostra evoluzione a capire quali sono i trend e quali saranno le esigenze future grazie hai lanciato un altro messaggio molto importante quello dell'innovazione degli ecosistemi che si creano innovando ascoltando e contaminando sino poi il concetto della contaminazione è un concetto chiave e c'è sempre però da tenere in considerazione un altro aspetto che poi magari l'insurtech ha una visione estremamente innovativa ma bisogna sempre fare i conti con quella che poi è anche l'aspetto regolamentare all'interno dei mercati e infatti volevo chiedere vi chiederò di essere un po' più rapidi avrò una domanda ciascuno in un minuto e mezzo un po' di minuti cercare di smarcarla e volevo partire da Roberto la regolamentazione è un'opportunità è un vincolo è una barriera voi che comunque poi vendete un prodotto anche abbastanza particolare e sicuramente affine al tema legale come la gestite come cavalcate le opportunità ma allora il nostro come sappiamo tutti è un mercato molto regolamentato e quindi il mondo insurtech ovviamente a volte deve farsi un po' spazio nelle pieghe di questa regolamentazione devo dire anche che dal nostro punto di vista è comunque un'opportunità molto spesso i grandi cambiamenti che abbiamo visto nel nostro mercato sono venuti più dalla spinta del regolatore che da reali esigenze di mercato che magari non sempre il mondo assicurativo ha saputo cogliere in tutta onestà ecco e devo dire che noi come compagnie di tutela legale ovviamente con la regolamentazione in generale con le leggi con la giurisprudenza ci cambiamo ci lavoriamo insomma ecco quindi è ovvio che per noi è assolutamente un'opportunità e mi piace magari citare due veramente un flash in un flash due casi concreti abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti un servizio che in epoca covid è stato poco sfruttato ma siamo assolutamente certi lo stiamo già vedendo che avrà molto successo in futuro sfruttando una tecnologia di gruppo ed è un servizio che permette semplicemente online inserendo il numero del volo di verificare se c'è la possibilità in caso di volo annullato o ritardato di avere un risarcimento nel caso in cui il cliente sia assicurato Arag banalmente ci prendiamo noi carico del ricorso della controversia con la compagnia aerea e diventa un sinistro nel caso in cui non sia assicurato ovviamente è un'opportunità per sfruttare la cosa il secondo esempio è simile ma in ambito stradale in questo caso la tecnologia è di terzi quindi abbiamo fatto una partnership con una start up innovativa tecnologica che si chiama ti assisto 24 lo posso citare perché la partnership è pubblica dove abbiamo lanciato un servizio che si chiama check multa in questo caso c'è anche un motore di intelligenza artificiale sotto che va sostanzialmente con la scansione della contravenzione e vi assicuro dite ma cosa c'entra l'intelligenza artificiale ci sono più di 50 modelli di contravenzioni diversi in Italia quindi anche solo capire e leggere i modelli non è così semplice e sottoponendo la scansione c'è la possibilità di verificare la probabilità di ricorso contro la contravenzione e quindi di fare ricorso per la multa anche in questo caso la possibilità per gli assicurati Arag è quella di sfruttare la polizia e quindi di affidarsi a noi in caso contrario c'è comunque la possibilità poi di acquistarla in un secondo momento intelligenza artificiale API insomma i concetti e le opportunità di integrarsi con nuovi partner sono fondamentali sono tante magari all'inizio neanche uno può sapere bene quello che ne può conseguire ma l'API è un tema che per me è estremamente caldo sia per la mia esperienza in mia platform sia per quello che vediamo all'interno dell'osservatorio Emanuele volevo chiedere a te ma le API sono davvero il concetto chiave per l'integrazione? Quanto sono importanti? Quanto per una realtà le API devono essere considerate come un elemento anche di business e non soltanto uno strumento IT? Le API come dicevo anche nel primo intervento sono importanti ma non sono il punto fondamentale secondo me cioè l'API è uno strumento come tanti negli anni e mi metto anch'io da questa parte abbiamo un po' spaventato il mercato volendo utilizzare le API e secondo me è perché le abbiamo usate da un punto di vista molto tecnologico e poco umano e poco di business quindi abbiamo sempre costruito delle API o abbiamo sempre realizzato le piattaforme che erano molto legate alla tecnologia e poco come dicevo prima al processo e al business la sfida nostra è quella di ma come quella del mercato è quella di rendere le API più umanamente intellegibili e più vicine al mercato è innegabile perché se no le farei che c'è una complessità dietro questa cosa cioè c'è una complessità nel rendere un processo di post vendita ad esempio semplice o la produzione di alcuni documenti parlo ad esempio nel mondo RC auto ma anche nel mondo vita o nelle polizze salute quello che è dei rami alimentari cioè quello che secondo me è importante è che la tecnologia e in questo momento la tecnologia è importante soprattutto con le API possa essere facilmente fruibile quello che è il nostro approccio è quello di è un approccio assolutamente aperto e pubblico è quello di dare visibilità ai partner che lo richiedono ma anche un insieme di utenti di avere le API pubbliche e di controllare quello che possono e poter vedere internamente ancora prima di contattarci quello che si può fare è ovvio che la definizione del prodotto come diceva anche prima Fabio deve essere fatta insieme ed è una cosa che deve essere fatta e tagliata a sua misura ma il consumare le API cioè rendere la posizione del mercato e del partner che siano queste libere è fondamentale ecco questo secondo me è la cosa più importante umanizzare la parte dei API non concentrarci sui API come tecnologia ma come processo come strumento al servizio del mercato la parte concludendo la parte più difficile secondo me di questo processo è banalmente definire degli standard comuni definire degli standard possiamo rubarla se vogliamo questa cosa il mercato tecnologico ha degli standard che si chiamano Open API che permettono di integrare anche su mondi come e su sfide tecnologicamente anche oltre a quelle reali prima parlavamo del metaverso è inevitabile che quello che in questo momento noi dobbiamo raggiungere è far parlare diversi ecosistemi diversi e si parla su ecosistemi diversi solo se c'è un linguaggio comune solo se c'è uno standard in questa cosa se questa può essere vista come una mancanza di vendor locchino comunque come una roba che può minare al nostro mercato io la vedo invece come un'opportunità per aprire un'interoperabilità come si dice in gergo tecnico dei mercati e che apre secondo me a degli scenari di assicurazione nuovi che apre alla possibilità di assicurare cose che prima non pensavamo che è esattamente secondo me l'obiettivo dell'invento di insurance e di queste sfide in questi anni Sì sono stato all'Open Banking World Congress e si discuteva proprio di come la PSD2 abbia creato quello standard che poi ha fatto partire tutto l'ecosistema bancario Il PSD2 è stato scusami è quello che veramente per il sistema bancario è stata la svolta ha obbligato a un'antastanza di sistema normativa ma alla fine ha dato un segno di standard come Open Banking EIOPA sta lavorando in questa direzione dovrebbe entro la fine del prossimo anno arrivare a una nuova regolamentazione a riguardo si parla addirittura della possibilità di avere una regolamentazione congiunta tra il bancario e l'assicurativo con una standardizzazione ancora più ampia quindi poi in quel concetto di creazione di ecosistemi di cui tanto abbiamo parlato stamattina e sicuramente è una grande grande opportunità per tutti Alessio volevo chiedere anche a te ma nell'approccio di compagnia all'innovazione quanto si può anche provare sbagliare imparare come funziona l'approccio di integrazione le compagnie sono pronte ad accogliere ad accettare questa sfida? Allora domanda interessante sono pronte con gradualità l'errore sappiamo che ha valore l'errore è quello che permette di migliorare di non farlo più magari ci traccia una strada che poi ci porta effettivamente ad avere successo all'interno dell'app di innovazione di Rale Mutua lavoriamo anche tantissimo con le start-up abbiamo anche un'unità di CVC che fa investimenti in start-up a livello industriale che possono essere sviluppate o possono sviluppare servizi o prodotti interessanti per quella che è la nostra industria quello che si cerca di fare è di sbagliare in piccolo non a caso vi ho raccontato molto di quello che abbiamo fatto in Spagna fino ad ora un po' meno di quello che abbiamo fatto per esempio in Italia perché siamo proprio in quella fase sempre in una logica iterativa quindi in una logica agile in cui di fatto sia nella creazione del progetto si lavora a livello iterativo e se c'è qualcosa che non funziona si cerca di provare subito a capire come migliorarla lo stesso nella logica di testing di un potenziale prodotto servizio bisogna andarci con i piedi di piombo sempre per il fatto che vogliamo mettere il cliente al centro e al contempo cercare di tutelare anche quella che è la nostra immagine quindi lavoriamo tanto in ottica MVP se sbagliamo non c'è problema magari sbagliamo in piccolo testiamo magari dei prodotti internamente family and friends o potenzialmente anche all'interno dei colleghi all'interno del contesto assicurativo interno e quindi con i colleghi è capitato più di una volta di testare soluzioni più disparate all'interno di diversi rami d'azienda proprio con i colleghi per capire sia come funzionassero sia effettivamente quale potesse essere la loro percezione quindi valore dell'errore sì cercando di mettere il cliente al centro avendo però un grosso vantaggio che prima non si aveva quindi di fatto la possibilità di avere a disposizione un numero importante di dati e quindi che ci fa un pochino da salvagente cercando di essere una data driven company nel riuscire a capire intercettare quali possono essere i needs e quindi diciamo sbagliamo in piccolo partiamo dal monopattino e poi magari alla fine riusciremo a costruire la macchina però pian pianino aggiungiamo un pezzettino e questo è l'approccio che cerchiamo di avere approccio incrementale all'innovazione approccio tema chiave ultimissima domanda Fabio torno da te e ti chiedo oltre alla tematica di come si innova in una compagnia ma dal punto di vista del branding dal tuo punto di vista le compagnie oggi come percepiscono l'embedded insurance è un'opportunità per rinnovare e quindi svecchiare tra virgolette anche un po' il proprio brand oppure c'è più la percezione del pericolo che il brand tenda un po' a scomparire perché non si distribuisce più direttamente un prodotto assicurativo ma si chiede a qualcun altro di farlo ma guarda ti porto l'esperienza di net perché ovviamente non posso conoscere tutto il mercato ma per noi diciamo noi il brand net abbiamo svecchiato nel 2019 quando abbiamo diversificato il piano industriale abbiamo aperto altri canali e l'embedded insurance costituisce una grande opportunità non abbiamo mai vissuto questa cosa come una possibile riduzione della nostra conoscenza del nostro marchio abbiamo altri canali e altre modalità per far conoscere il nostro brand che funzionano che mantengono sempre alta la conoscenza della nostra compagnia per noi l'embedded insurance lo ripeto è una grande opportunità invece per farci conoscere su altri mercati in altri perimetri in altri contesti dove magari il prodotto assicurativo fino a qualche anno fa non arrivava o arrivava per caso o era vissuto come qualcosa di assolutamente marginale quindi in estrema sintesi no è una grande opportunità per farci conoscere anche su altri mercati benissimo io ho terminato siamo andati un po' lunghi ma spero di non avervi annoiato vi ringrazio tantissimo per la vostra testimonianza e per per le interessanti interessanti sfide che attendono il mercato assicurativo grazie mille a tutti grazie